Mi lega un profondo affetto e una profonda stiva. Penso che sia comunque, quello che posso dire, riduttivo. Non credo che nel nostro ambiente non si conosca Andrea Longagnani, un passato da giocatore, un passato da allenatore nel baseball, dalle giovanili di Reggio Emilia fino comunque al Collecchio e anche allo Junior Parma fino ad arrivare alla massima serie. Passa poi al softball dove guida Collecchio per tanti anni e lo riporta anche in A1, quella che era un tempo da ISL, chiamata ISL. Dopo passa per due stagioni all'oltre torrente. È attualmente manager della nazionale Under-18. È stato nel 2018 manager nel 2022 e con onore insieme a lui, posso vantarmi che abbiamo vinto in quella sconosciuta Slovacchia il titolo europeo Under-22. È il nostro collega nel CNT, è un relatore in tanti corsi e conversione e un grande formatore. Oggi ci presenta Battusa365 che è un titolo anche abbastanza strano. Penso di aver detto tutto. A te la parola Andrea. Grazie Simona, grazie. Come mettere l'imbarazzo una persona. Esatto, esatto. Tanto vi saluto tutti veramente e ricambio la stima che ho per Simone, veramente. Battitore365. Allora, innanzitutto cosa non è? Non è battere una media battuta 365 perché battere 365 ritengo che sia una cosa abbastanza complicata, ma piuttosto che una media battuta allora parlerei di media offensiva, ma qua ci sarebbe da fare tutta un'altra lezione, un altro trattato. Non è sicuramente battere a tutto campo, no? Partendo dalla terza base per passare da interbase e arrivare a 365. Arrivare alla terza base, insomma. Che cos'è invece? Che cos'è? E battere, secondo me, creare battitori e allenarli 365 giorni all'anno. E qua, perché? Adesso io vi chiederò, vi spiazzerò un pochino anche, magari lo vi provocherò, no? Ma io vorrei capire il perché e come, anche insieme a voi, creare battitore 365 giorni all'anno. Soprattutto in uno sport come la nostra, no? Dove la battuta viene chiaramente indicato come uno tra gli esercizi più difficili, no? Di tutti gli sport. Però purtroppo noi ci troviamo a giocare il nostro sport sei mesi all'anno, se va bene, perché abbiamo visto... Mi sentite? Sì. Sei mesi all'anno, mentre invece per la restante parte dell'anno non giochiamo, no? E quindi questo è il nostro cruccio, no? Perché non riusciamo a fare della nostra, diciamo, la nostra battuta, che è la cosa più difficile veramente che ci sia, portarla avanti per 365 giorni all'anno. Allora, ovviamente l'Italia si stende dal nord al sud e quindi ci sono sicuramente delle regioni più favorite, no? Però sempre più spesso vediamo, e questo è sotto gli occhi di tutti, no? Sotto più spesso vediamo dei battitori che all'inizio stagione sono in difficoltà, quei lanciatori, no? A me capita spessissimo, no? Oppure vedere giocatori da oltro oceano che arrivano e sono più in forma sicuramente dei nostri. E sicuramente vi posso garantire che non è più per un effetto fisico o tecnica, ma solamente perché loro, non tutti i giocatori, eh, premetto, probabilmente quelli che arrivano dalla California e dai paesi più caldi, come la Florida, che hanno la possibilità di giocare tutto l'anno, sicuramente sono in grado di vedere i lanci tutto l'anno, giocano tantissimo. Poi ci sono due aspetti che secondo me sono spesso sottovalutati. Uno è quello che ci sono giocatori di interesse nazionale, quindi che giocano anche nelle nostre nazionali, che possono essere chiamati, guarda caso quest'anno abbiamo un esempio, a giocare campionati nel mondo in altre parti del mondo, come a marzo, a febbraio. Quindi si troverebbero completamente impreparati perché non avrebbero, diciamo, nelle loro corde gli swing fatti fino all'ultima settimana, no? Quindi va bene per i campionati europei perché, diciamo, normalmente sono a fine campionato, ma i campionati mondiali spesso si gioca in altre parti del mondo. Noi con Simona stiamo preparando un campionato mondiale, Covid permettendo che si giocherà addirittura in Peru. Quindi giocheremo a marzo. Capite bene come noi allenatori potremo affrontare un campionato mondiale senza attività agonistiche fino a quel momento. Un altro aspetto che secondo me, ne sto citando alcuni, non sono sicuramente tutti, però sono aspetti, secondo me, fondamentali. Un altro aspetto molto importante è che noi durante l'off-season cambiamo i nostri giocatori. Cambiamo sia come tecnica, ma soprattutto come preparazione fisica. E quindi c'è da stare molto attenti, perché se voi, diciamo, preparate un atleta e quindi gli cambiate gli aspetti di forza e non tenete costante l'aspetto tecnico, voi troverete questo giocatore con estrema difficoltà all'inizio del campionato. Quindi dobbiamo cercare di creare un battitore che sì si sviluppa come forza, si sviluppa come attività funzionale, come coordinazione, però l'aspetto tecnico deve assolutamente rimanere paritetico. A me stesso è capitato, è capitato proprio di non riuscire a gestire, diciamo, il mio cambio di forza. E quindi volevo vedere con voi quali potevano essere i mezzi per poter fare questo. Diciamo che quello che vedremo sono aspetti tecnici che sono da fare sicuramente con un atleti senior, ma vedrete che troverete spunti anche da fare sulle giovanili, partendo addirittura dalle cadette. Adesso qua lancio una prima provocazione, cioè quando passiamo dalla fase di in-season, all'off-season, ci trasformiamo, ci trasformiamo, cioè non riusciamo più a fare quello che facciamo in campo. Vedi, vabbè, vado in palestra, vado nei tunnel, aspettate un attimo che ci ragioniamo su questo. Una cosa però che non mi piace, o che ho visto spesso fare, e non la ritengo assolutamente corretta, è indossare più il caschetto, il casco protettivo. Addirittura ho visto fare dei BP live senza casco protettivo. Qua ci sono due aspetti da tenere in considerazione. Uno sicuramente è quello della sicurezza. Sapete benissimo che in un campo volano oggetti, volano palline, vola di tutto. E quindi avere un casco indossato, vi garantisco che a volte può veramente fare la differenza. Mi è capitato, e meno male che avevano indossato il casco. E soprattutto come gesto tecnico, quante volte andiamo a battere senza casco noi? Quante volte andiamo a battere? Quindi se vogliamo essere coerenti e fare battere senza casco, ogni tanto mandiamoli senza mazza a battere. Facciamoli battere con le mani, vediamo com'è, cosa succede. Questo veramente non lo concepisco, perché sapete bene che avere il casco è obbligatorio e lo swing deve essere fatto sempre col casco, sia che venga fatto sul t-ball, sia che venga fatto in front-horse. Vedetelo come volete, ma è un aggetto tecnico che vi stringe le orecchie, vi toglie luce. Addirittura nel software c'è qualcuna che... Anzi, soprattutto per chi comincia a mettere la maschera, sarebbe meglio cominciare a farli affrontare dall'inverno, perché diventa una cosa che hanno già vissuto, rientra nelle loro corde. L'altra cosa che ci scordiamo completamente è che la battuta e il lancio è fatto di velocità e traiettorie e questo difficilmente lo andranno a ricreare. Cioè usiamo tantissimo il t-ball, usiamo tantissimo il lateral-to-horse o il front-horse, però ci scordiamo appunto di queste traiettorie, di queste velocità. E allora qua volevo un attimino cominciare a vedere quali potevano essere i mezzi con cui affrontare queste cose. Allora, la cosa che ritengo fondamentale è continuare a battere contro i vostri lanciatori. Battere con i vostri lanciatori. Perché non fate fare il VP ai vostri lanciatori contro i vostri battitori? E dice Lunga, ovviamente non è una palestra. Allora, qua ci sono vari aspetti, perché il posto sicuramente incide. Però come dico sempre, bisogna trovare delle soluzioni e non dei problemi, perché i problemi siamo veramente bravi tutti a trovarli. E quindi dobbiamo veramente sforzarci per fare in modo che i nostri lanciatori facciano bullpen con i nostri battitori. E questo in cosa agevolerebbe? Innanzitutto il lanciatore tirerebbe contro il nostro battitore e quindi proverebbe un VP Live. Il nostro battitore non perderebbe, diciamo, il timing e l'occhio sugli effetti o sulle traiettorie della palla. Vediamo però, ci sono aspetti da tenere in considerazione, no? Perché io, a parte Parma, dove ho visto che ci sono tunnel con proprio la sabbia reale e caserta, non ho esperienza di altri posti. Quindi lì sarebbe facilmente recreabile la cosa. Invece spostiamoci in palestra o dove ci sono dei tunnel che magari hanno del sintetico per terra. Ecco, intanto lì potremmo far lanciare i nostri lanciatori con le Incredibles, che sono quelle palle più soffici normalmente, ma hanno un peso quasi uguale a quello effettivo. Però c'è sempre a stare attenti, quindi anche se venisse colpito, diciamo che non c'è una cosa, un danno, diciamo, terribile, come potrebbe essere la palla normale. Ma una cosa che potreste fare, e che ho fatto e che funziona, è, siccome la palla che picchia per terra su un terretto sintetico, che può essere cemento, erba sintetica o quant'altro, potrebbe essere quella di mettere delle salviette arruffate, spiegazzate, a uno, due, tre metri dal lanciatore, in modo che quando la palla incoccia non ci sono problemi. Cioè viene attutita completamente. Altro aspetto che si può fare, che si può usare, è la macchina lanciapalle. Tantissimi di voi hanno macchina lanciapalle, però anche qua vi provo con un attimino, perché l'ho vista fare, l'ho vista usare in maniera... Io la uso pochissimo, non mi piace tanto la macchina lanciapalle, se non per allenare i catch, però la uso anche a volte quando ci sono dei problemi, manca il lanciatore, manca l'olio del intestino, anche la compagnia bella. Ma come va fatta la macchina lanciapalle? Perché se voi badate sulla macchina lanciapalle e ne abusate, troverete, metterete dei difetti nei vostri battitori, perché il battitore non ha più l'occhio sul movimento, sul caricamento del lanciatore, sul pre-pitch, quello che chiamano pre-pitch. E vedrete che andrà, comincerà ad andare a scatti, quindi gli state creando qualcosa che non è quello che va a trovare quando si troverà in partita. Come avviare anche a questo? Mettete la mano con cui lanciate, con cui non lanciate, sull'imboccatura della macchina lanciapalle e con l'altro braccio fate la finta del lanciatore. Ovviamente deve essere quantomeno il più sincronizzato, no? Però questo dà, diciamo, al battitore la possibilità di avere un timing sulla palla. E questo aiuterebbe tantissimo. Aiuterebbe tantissimo. Ci sono battitori più esperti che ovviamente il timing lo prendono su di voi quando mettete dentro la palla. Ma capite bene che se non siete costanti nel mettere dentro la palla la cosa diventa un pochino distruttiva. La cosa invece funziona quando io voglio creare dei cambi di velocità. Allora a quel punto potrebbe essere usato questa, diciamo, rottura tra il movimento e il rilascio della palla. Oppure posso farlo io, il BP. Posso farlo io come manager, come coach. Anch'io ho dovuto imparare, ho dovuto imparare a lanciare per poter essere efficace con i miei battitori, no? Sempre, magari, usando delle accortezze visto che non sono un lanciatore e quindi non ho le distanze effettive magari metto dei piatti in maniera sfalsata a, che so, 4, 5, 6 metri in maniera verticale e ad ogni lancio faccio cambiare il mio battitore in modo che ogni lancio abbia una velocità differente. Sto parlando di cose per ricreare l'aspetto del campo perché ovviamente vale tutto quello che si fa a blocchi per, diciamo, cambiare la tecnica di un vostro battitore. Ma sto cercando di dire quello che invece vi potrebbe servire per non perdere non perdere tutto quello che ci dà il campo, che ci dà il real game. Oppure potrebbe essere anche che io faccio la sfalsatura dei piatti in maniera orizzontale. Quindi alla stessa linea ne metto uno che si sposta un po' più interno, uno centrale e uno più a destra. Anche qua simulerei delle, diciamo, delle curve o delle screw, ok? Quindi che entrano o che escono in maniera molto naturale. Ma l'importante sarebbe cambiare ad ogni lancio in modo da non abituare. Anche perché ragazzi in partita quanti lanci arrivano esattamente nella stessa location con la stessa rotazione con la stessa traiettoria? Mai. Mai. Questo ovviamente sto parlando se avete lo spazio. Se non avete lo spazio se non avete lo spazio o non avete le capacità perché a volte anche uno potrebbe non essere in grado di farlo potete utilizzare quella che io chiamo le curveball. Questa qua se la vedete canalatura e a seconda di come le impugnate potete lanciare a baseball o a softball questo non cambia. Potete lanciare la palla che curva o in un modo o nell'altro. Addirittura qualche volta viene anche il drop cioè che cade in questo mondo o qualche volta viene anche il rise. Quindi sono le spalle estremamente soffici che però senza mai dire niente al vostro battitore ma solamente impugnandoli in maniera differente potete ricreare tutte le traiettorie che volete. Devo dire che in Italia costano un pochino care. Se avete qualcuno che è Bazzica in America da Dixport o Sport Academy le trovate a tre volte meno. Ok? Giusto per non essere sempre lì perché le vendono a 6 di 3 però funzionano vedete che sono molto usate proprio perché le uso tantissimo questo. Questo ovviamente io vi sto dando dei consigli da diciamo off-season però valgono anche da in-season non ci sono problemi a utilizzare. oppure se non ho se non ho lo spazio ho paura di rompere qualcosa posso usare palle che sono estremamente morbide come queste che hanno colori differenti guardate anche queste si trovano non so se le vedete sì si vedono le vedete su internet ok e anche qua le potete usare banalmente con la stessa sfalsatura di piatti che vi dicevo prima oppure oppure inginocchiando oppure salendo su una sedia magari per creare la palla drop no? ovviamente non dovreste sempre lanciare drop non dovreste sempre lanciare le ginocchie per darla giusta al territorio ogni tanto dovreste anche fare palle differenti alla cintura e alle spalle cioè quello che mi preme è che dovremmo sempre costantemente cambiare 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 addirittura ci sono anche queste palline che sono un po' più piccoline guardate sono sempre sofficissimi voi vi potete mettere davanti al battitore se non avete il proprio spazio in ginocchio e lanciare ovviamente ecco qua la pandemia mi ha dato un'idea prima io indossavo un casco tutte le volte che lanciavo abbassavo gli occhi in modo che se anche mi colpiva colpiva il casco però non vedevo non vedevo lo swing invece indossando questa face mask che tiene un po' a distanza e questo sicuramente non fa problemi con la face mask non gli da problemi potete lanciare queste palline e vedere anche lo swing ecco queste sono un pochino diciamo le tecniche che io andrei ad utilizzare proprio per le ragioni sopresposte io non so Simo volevo siccome volevo lasciare molto spazio al dibattito perché volevo appunto provocarvi in questo io direi che ho finito ovviamente ci sono tantissime varianti però io ho voluto darvi solo alcuni alcuni spunti che però secondo me sono fondamentali ok lunga innanzitutto domandano come si chiamano queste palline con le scanalature si chiamano curveball le trovate come curveball Francesco prendi nota di solito nei corsi sono molto attraggono molto queste devo dire anche perché le potete vedere da soli cioè tirando dritto più la distanza aumenta e veramente fanno delle curve spaventose veramente dovreste provarle ok sempre Francesco Giusti chiede si possono utilizzare anche i volano o le vitiglie di essere dominicane non le conosco non le conosco non le usate probabilmente sempre con diciamo con le tecniche diciamo prima dipende dal posto non so se sono morbido o meno Francesco se vuoi aprire l'audio magari spiegare all'onga allora praticamente le vitiglie ora cercavo il link è un gioco non ti si sente bene allora mi senti ora sì ora sì grazie allora le vitiglia sono praticamente delle specie di dischetti che sono di plastica e che servono anche a rifare e creare le curve del del baseball e si colpiscono con un manico di scopa accorciato quindi tagliato a metà e ora se ve lo trovo ve lo ve le metto qualche cosa un video mentre il volano è quello del badminton quindi sono anche quelli che può essere utile sempre per creare delle traiettorie particolari assolutamente d'accordo guarda io prima di trovare queste palline addirittura usavo i tappi delle bottigliette di plastica è che qualche dura che mi arrivava in testa faceva male ecco quindi ho opportunito poi adottare questo però il concetto è valido quello che dicevi nel momento in cui io riesco a creare una traiettoria ben venga ben venga anche perché poi i costi ripeto di queste sono penso che costano dai 4 ai 5 euro l'una quindi non scherzano ecco è che sono indistruttibili hanno questo vantaggio sono veramente facili da usare ma vi esorto veramente a provare perché sono fantastiche sia a baseball che a softball ovviamente la dimensione è quella da baseball però è veramente anche perché si troverebbe a utilizzare ok in modo molto molto facile perché voi il baseball lo usate non so poi il volano come che traiettorie lunghe può avere piuttosto che i dischetti ecco magari sono un po' più difficilmente gestibili però ben venga assolutamente qualche altra domanda? uso anche queste palle dire la verità queste le conoscete molto bene però queste dovete sempre essere dietro una rete protettiva una cosa che ho notato anche è che a volte nelle palestre non riusciamo a portare delle reti protettive però mettendo delle sedie mettendo i materassini che lì si sono si riesce ad ovviare a questo l'unica cosa è che non riuscite a vedere lo swing quindi se avete qualcuno che vi fa da tosser e voi potete vederlo assolutamente longa mi chiede massimiliano dimmi scegliere nelle scuole che materiale utilizzare nelle scuole che materiale quello che usiamo normalmente quello che usiamo normalmente l'unica cosa è che ovviamente ci sono a volte le luci esposte e qui non possiamo usare tutti i tipi di palle però quella palla io purtroppo non ce l'ho l'incredible però la conoscete è quella palla di tessuto che si schiaccia morbidamente in maniera morbida ed ha il peso più o meno della pallina ufficiale ecco io lì nei capannoni diciamo dove molte società prendevano in affitto e c'era la protezione di una rete davanti alle luci e lo usavo io facevo addirittura partita lì come poi immagino che faccia la Winter League Elisa Griffagno Longa volevo chiederti tutti questi esercizi di cui hai parlato poi in off season come li utilizzeresti cioè come faresti una programmazione o una periodizzazione lavori tutte le settimane su tutti gli aspetti o quali criteri segui bravissima Elisa no ovviamente ovviamente potrebbe essere che un allenamento faccio questo tipo di allenamento l'altro faccio usare il lanciatore l'altro faccio fare bullpen perché sapete che i lanciatori o meglio i allenatori e i lanciatori prediligono avere i lanciatori sempre liberi per poterli istruire quindi non sempre diciamo gradiscono soprattutto quando vanno a cambiare il tipo di lancio introdurano i lanci gradiscono farli fare BP Live però alternando BP Live con gli esercizi che dicevo prima e con anche frontos si crea secondo me la giusta varietà poi non escludo mai l'allenamento a blocchi perché ragazzi se stiamo cambiando un battitore ovviamente lì dovremmo fare palle ripetitive su quel tipo di lancio perché magari ha problemi a incocciare la palla interna piuttosto che la palla esterna ma ma e qui è il mar non forzionizziamoci troppo sull'allenamento a blocchi diamo sempre varietà il nostro sport è troppo variabile per poterlo costringere a faccio un esempio entro in una palestra vedo l'allenamento sul t-ball per l'amore non ho niente incontrato il t-ball anzi per me è un esercizio ottimo ma se abusato è fatto male anche qua diventa un esercizio inutile per esempio vedo il t-ball sempre messo alla stessa altezza alla stessa location anche qua va variato fate tre stazioni di t-ball ne fate una bassa una media una alta poi fate avvicinare o allontanare o avvicinare o allontanare il vostro battitore sul t-ball ok però io preferisco sempre variare una cosa importante Lisa è da subito cioè io ho smesso dieci giorni il campo inizio subito inizio subito a creare varietà non voglio perdere varietà non so se ho risposto Lisa tutto allora Federico spesso il BP lo lancio io mi consigli di variare i lanci tra dritta curva cambio anche in precampionato sempre 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 allora anche qua se voglio dare un po' di fiducia ai battitori le faccio sfogare ok quindi a volte sono battitori che hanno bisogno di fare degli swing proprio per diciamo scaricarsi la testa e lui lo fai fare lui lo fai fare e lui gli fai sempre la stessa palla la stessa palla ma il BP cercate di variarlo soprattutto voi allenatori se avete la fortuna di riuscire a questi tutti i tipi di lanci assolutamente assolutamente attenzione però che a farlo sempre a farlo a una persona si abitano sempre alla stessa traiettoria è come incocciare sempre lo stesso quindi anche voi variate alzatevi se avete delle pedane allontanatevi avvicinate avvicinate i vostri battitori non date sempre la stessa velocità o altezza cambiate sempre le traiettorie quindi Longa mi pare di capire che comunque in off season lavoriamo subito con la palla in movimento e spesso ci fossilizziamo sempre sulla palla ferma soprattutto quando ci prepariamo e ci avviciniamo a muovere la palla sempre con l'avvicinarsi del campionato è vero troppo troppo spesso ripeto non perdiamo di vista diciamo l'allenamento a blocchi per essere ripetitivi sul movimento che voglio andare a cambiare ma non in una settimana facciamolo una volta ma le altre due tre volte cambiamo pariamo subito creiamo sempre questa varietà ragazzi la battuta è troppo difficile è un movimento troppo complicato e non possiamo pensare di allenarlo 3-4 mesi all'anno anche gli swing a secchi a secco a secco va benissimo ma danno solo anche lì se faccio fare le swing a secco lo faccio fare sempre cercando una location diversa gli dico ti vai a battere una palla interna ti vai a battere una palla esterna alta bassa centrale ogni swing deve essere variato sapete io conosco molti battitori da come si scaldano nelle box di battuta prima di arrivare nelle box di battuta voi vedete gli swing e quella lì sicuramente loro swingono sempre nella loro comfort zone e sicuramente quella sarà la palla che non li vado a lanciare io quindi anche qua serve per dare per confondere all'adversario non date nessun riferimento all'adversario oltre a abituarvi voi a fare degli swing su location diverse adesso non ho parlato dei cambi di velocità ma il cambio di velocità è devastante per un battitore quindi anche qua quando io vado a magari bloccare un attimo la palla sulla macchina lanciapalle oppure lo metto estratamente lontano dopo aver fatto uno swing vicino gli creo immediatamente questo effetto e quindi è questa la continuità ragazzi dobbiamo veramente ripeto è troppo difficile quindi dobbiamo cercare di continuare a dare questa varietà continua 365 giorni all'anno io dico sempre che i campionati si vengono di vero si vengono di inverno piuttosto che di estate perché io ho trovato dei miglioramenti incredibili proprio ad attuare queste cose su tutti i giocatori su tutta la squadra cominciando addirittura a ottobre sì indubbiamente ci deve essere comunque la grande sinergia col tuo pitching coach di squadra perché spesso in periodi off season sono contrari a far lanciare o ritengono sia troppo presto comunque metterli in modalità col battitore davanti vero vero però io non dico sempre io gli dico non te lo rubo tutti i giorni perché è giusto che lui ci lavori perché ovviamente anche solo insegnare un nuovo effetto però guarda caso un conto è insegnare l'effetto a secco un conto è insegnarlo col battitore poi ragazzi se avete problemi ovviamente state curando la parte interna lo dite al battitore guarda che sto cercando di curare la parte interna in modo che magari lui è pronto in quel momento infatti una delle domande dice in BP comunichiamo il tipo di lancio deve essere una sorpresa chiede Claudio anche qua normalmente lo si può fare se sto aggiustando un movimento ma nel momento che io ricreo il BP Live che io chiamo BP Live a quel punto io non dico più niente non dico più niente ragazzi devono anche convivere i battitori con la sconfitta devono convivere con questa cosa che sono sempre continuamente sfidati è inutile che io faccia fare 50 swing 100 swing combattute contro la rete e poi si trovano in partita ad avere difficoltà con i tre cambi che si trovano e battono 0 su 10 0 su 15 0 su 20 dovete spiegarglielo dovete spiegarglielo ma non vale niente cioè fare un BP dove sbattono contro la rete perché io tiro sempre lì ditemi cosa serve ditemi cosa serve e Murphy chiede come si fa a impostare questa continuità sulle under 15 l'under 15 ci potrebbe essere un problema sui lanciatori che non hanno questa questa cadenza a tirare strike ovviamente qua andiamo con le altre opzioni se da quando non abbiamo dei lanciatori che tirano in una maniera costante strike costante non vuol dire che continuamente strike però tirano abbastanza strike possiamo andare con l'altra modalità e quindi facciamo dei frontos variati noi frontosso o palline come vi dicevo prima però anche qua portate non fate allenamento di preparazione fisica se cercate di mischiare magari ecco un gruppo che sta facendo preparazione fisica sta facendo preparazione fisica l'altro gruppo fa battuta è un esempio poi si cambiano giusto per creare continuità aspetta è lunga controllo sì 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 tranquillo volevo proprio appunto creare questo dibattito perché non volevo tediarvi anche perché immagino che qualcuno abbia già messo i piedi sotto la tavola in effetti c'è comunque una grande abitudine a lavorare facendo battuta con determinati lanci solo al momento in cui durante il campionato si incontra quel quel giocatore che ha come sua miglior palla non so il drop allora nelle settimane solo nelle settimane antecedenti all'incontro con questo lanciatore ci si concentra di più su quel tipo di lancio è correttissimo dovremmo è un'abitudine che abbiamo un po' tutti no ma è corretto questa è strategia della partita assolutamente corretto però il problema è che il tuo battitore abbia nelle corde già tutto il lavoro fatto prima perché se io l'abito a battere degli screw e quindi vede tutti gli anni degli screw se tutto l'anno vede delle curve tutto l'anno vede dei drop beh lasciami dire che forse avrai un battitore che è molto più pronto a reagire anche alla partita che capiterà certo voglio sapere se c'è qualcuno che adotta anche altre tecniche perché è interessante Flavia ci dice che siamo fortunati perché abbiamo pitching coach hitting coach però come dicevo prima ecco perché la face mask diventa diventa fondamentale magari solamente facendo front horse perché giustamente quando quando devi fare da solo perché devi guardare lo swing ovviamente sei da solo e devi fare necessità di artù assolutamente come pitching coach ovvio io sono il primo a dire non mi sono mai interessato dei lanciatori sono veramente un ignorante del lanciatore però ho dovuto imparare come impugnare le palle per tirare dei vari effetti quindi questo sì questo ho dovuto fare poi sono con te Flavia bisogna fare di necessità di artù però questo non toglie quello che dicevamo prima perché se io quell'allenamento lì l'ho imposto in uno degli esercizi che facevamo lo faccio diverso è dire sono da solo e ti faccio solo un lateral toss io ormai il lateral toss l'ho abbandonato da anni da anni se non in condizioni che lo metto a 45 gradi perché ditemi voi quando un battitore prende una palla laterale perché devo mettere che tra l'altro se voi badate sempre facendo il lateral toss il vostro battitore più lo fate e più si avvicinerà col piede chiudendo di fatto l'utilizzo delle anche quindi sto introducendo delle cose che non servono e in più li metto dei difetti in più li metto dei difetti quindi non abusate ecco perché anche qua la varietà però ragazzi che mondo è mondo noi andiamo a battere con la mazza col caschetto e vediamo palle che arrivano davanti a me ok quindi ce ne sono già Matteo Sandrone che esercizi indoor non live bp possibili consigli per cercare di incrementare la capacità nel colpire piena la pallina a parte la continua variabilità degli esercizi bellissima domanda qui anche anche in in season non solo in off season queste però sono delle palle ottime perché ovviamente il diametro comincia a diminuire non fatelo con le palle da gol perché ovviamente hanno una velocità che sarebbe assurda si trovano si trovano le palle da gol rispetto a queste però queste sono ottime ottime palle per visualizzare bene e soprattutto quando volete aumentare le potete lanciare anche a grappolo e chiedere di battere il colore quindi qua faccio le prendo in mano le lancio in mano adesso non si vedono però quando arrivano quando voi state per lanciare poco prima ovviamente diventa sempre più sfidante perché lo potete dire prima o lo potete dire poco prima e qui ci sono esercizi oculo manuali che sono eccezionali questo è uno io questo lo uso tanto oppure con questa insomma se diventa difficile perché magari sono più giovani potete cominciare con delle palle di dimensioni medie ok il vantaggio di queste con le scanalature è che poi c'è un'altra che deve essere rossa se non sbaglio potete usarle anche per colore quindi sono ecco perché sono così usate sono estremamente utilizzabili nell'under 12 è consigliato fare una stazione con pitcher di categoria? qua ovviamente dipende sempre da quello che dicevo prima per l'under 15 se avete se avete una lanciatrice che ti rastrai ce ne sono perché l'ho vista anche nelle mie società sì 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 e con le palle soffici è ottimo assolutamente sì assolutamente sì c'è troppo tra l'altro le under 12 purtroppo soffrono almeno io l'ho vista in campionato non ho visto i campionati indoor soffrono del fatto che giocano veramente poco e se badate nei tornei quando giocano si trovano a giocare 5, 6, 7, 8 10 partite le vedete crescere tantissime quindi la stessa cosa va fatta anche con le piccole se avete dei lanciatori se no fate voi il lanciatore amico allora Chiara dice che lei usa anche palline da ping pong ma tutto ritorno a quello che dicevo prima l'unica cosa è la distanza perché più le cose sono leggeri le usate anche io anche i tappi e più non riesce a direzionarle in maniera corretta queste che ho trovato che ho fatto vedere hanno la possibilità di essere lanciate anche a 7, 8 metri anche se non di più queste per esempio vanno proprio anche a distanza normale sono un po' più consistenti però se arrivano vi garantisco che non fanno male perché vedete si piegano però con l'under 12 sì se avete un lanciatore che tira che riesce a lanciare bene assolutamente fatelo fatelo ovvio attenzione perché fare un allenamento così vuol dire che potreste avere molte ragazze che stanno ferme allora mi ricollegavo a quello che diceva Flavia probabilmente lì sarebbe bene usare magari un qualcun altro anche un genitore che fa fare dell'altro ok quindi creiamo delle situazioni anche lì l'importante è che non stiano ferme spesso quando lancio il VP faccio uso del ricevitore soprattutto per cambiare tra interno esterno alto basso consigli l'uso del ricevitore assolutamente sì assolutamente sì anche perché benvenga voglio dire c'è qualcuno che gli swinga davanti c'è qualcuno che gli crea anche lì situazioni anche perché è lanciatore e lo faccio anche questo si può simulare perlomeno facendo a secco dei movimenti per tirare in prima per tirare in seconda o tirare in terza assolutamente sì domanda interessantissima è vero l'ho dimenticato prima mi ero focalizzato sul battitore ma è un ottimo lavoro anche per i ricevitori questo Flavia dice che utilizza il filo con palle attaccate in tre location e swing a secco indicando ottimo per il lockdown un filo quindi ha un filo attaccato non ho capito com'è se vuoi aggiungere mettiti in audio sì tre palle bucate le wife folly una perola di location esatto quelle lì swing a secco sulle palle che ogni volta indichi alta bassa di qua di là ottimo ottimo però ovviamente la palle la palle è ferma in questo caso esatto è ferma però per effettuare lo stesso swing sulle palle senza modificarlo spesso le giovani a seconda della palla modificano il modo di girare assolutamente sì assolutamente sì anzi mi hai fatto venire in mente un'altra cosa che è molto interessante forse l'avevo messa quando voi allenate a blocchi vedete che il battitore batte bene ha tolto quel difetto ha tolto quel difetto sul t-ball va bene ha tolto quel difetto lo mettete davanti al lanciatore paff ritorna perché? perché gli avete tolto la parte razionale ecco perché un altro motivo per cui è importantissimo quando state correggendo un battitore fagli vedere real game fagli vedere lanci effettivi perché voi siete tutti soddisfatti no? siete soddisfatti ah abbiamo tolto il problema un piffero un piffero perché lì quando la palla è ferma c'è sempre la razionalità e il battitore riesce a diciamo controllare il movimento ma nel momento che c'è un lanciatore davanti le cose cambiano quindi il fatto di correggerlo correggetelo sempre nei due modi cioè intanto lo state corregendo fate di fare anche real game in modo che lo senta senta la correzione proprio dal vivo grazie della domanda anche perché è interessante in effetti anche l'esercizio una volta si si faceva sempre con queste we fall per imparare questo è un po' più softballistico per far imparare la rise cosa che io non insegno più perché per me a rise e ball si metteva un filo basso si tirava diciamo da una sedia verso il battitore e poi si spingeva la palla in modo che facessero la traiettoria verso l'alto questo è un altro esercizio che può essere fatto so che qualcuno lo fa ancora per far imparare a battere la rise la palla è che si alza ciao Claudio mi sembra buongiorno Andrea poco fa hai detto che non sei d'accordo ad utilizzare un lanciapalle io per far prendere il tempo di battuta ai bambini ne ho acquistato uno adatto a loro la cosa ha funzionato ma i bambini spesso mi chiedono il lancio frontale nonostante il lancio fatto dal mio lanciapalle abbia una traiettoria variabile a parabola va benissimo l'importante è state molto attenti a quel movimento diciamo di di caricamento quello che io chiamo il caricamento del battitore perché togliendo la parte diciamo del lanciatore il movimento del lanciatore vedrete che fanno continuano a fare questo fanno questo movimento qua quindi se voi introducete quello che vi dicevo mettete la mano con una pallina diciamo sull'imboccatore della macchina lanciapalle e poi simulate il lancio e al momento che lasciate andare allora loro hanno la perfetta percezione ok io non sono contrario cioè io sono contrario alla macchina lanciapalle fatta in modo tradizionale cioè boom 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 questo questo perché bisogna essere battitori veramente esperti e chi mette dentro deve essere molto regolare allora loro riescono a prendere tempo ma se non siete esperti badateci e vedrete che acquisiscono più difetti che che cose diciamo buone esatto poi io se i bambini l'amano parlamo di Dio assolutamente poi dipende anche da molte macchine lanciapalle perché non viste veramente li fatti bene anche vabbè lasciamo perdere quelli con gli schermi americani che quelle sono fantastiche ma puoi scegliere addirittura mi hanno portato nel tunnel di battuta in Florida ti scegli addirittura il lanciatore che vuoi quindi la palla proviene da tutte le location ma quelle sono per loro lasciamo da loro queste cose non so se ho risposto perché sì mi dicono perfetto grazie Emanuela Giovinazzo gli racconta io la utilizzo anche io utilizzo il filo teso e tra di loro se la ribattono allora ho capito solo la tua domanda ottimo ottimo anche lì è una palla in movimento e quindi perfetto perfetto assolutamente l'unica cosa è cambiare la traiettoria e allontanarla secondo me avvicinarla a seconda di quello che gli vuoi far fare ottimo sì sì l'unica cosa che manca anche qua se volete la diciamo l'effetto del caricamento del lanciatore quindi va molto bene perché io posso usare traiettorie direi quindi posso cambiare traiettorie interne esterne e non perdo palle lo posso fare in una palestra assolutamente manca però l'effetto del lanciatore bene abbiamo altre domande? mi sembra di no bene aspetta aspetta Luca Girotto aspetta è longa sì sempre riguardo alla lanciapalle in under 15 ho notato che battono volentieri come se non ci fosse un domani ma se subito dopo alzio la palla vera non vanno fuori dal diamante praticamente con la lanciapalle si appoggiano e sfruttano la velocità in live non c'è forza si sono abituati si sono abituati al mezzo si sono abituati al mezzo però qua ti dico una cosa qua potresti veramente stravolgervi la cosa sfalsando i piatti quindi gli metti dei piatti leggermente sfalsati in modo che simuli un po' più la palla interna piuttosto che la palla esterna e poi li avvicini o li allontani vedrai che la macchina lanciapalle comincia a diventare un po' più complicata a fare ma non 10 battute interne 10 battute esterne una e poi cambi cambi piatto cambi location una vedrai che diventa più interessante il lavoro provalo per questo mi è capitato proprio a me Anna dice che ogni tanto usa la macchina lanciapalle con le meno esperte per far capire che cosa vuol dire girare veloce la mazza perfetto vedi ha un obiettivo ha un obiettivo ottimo quando tu hai un obiettivo va benissimo quello che dicevo prima non abusarne non abusarne perché altrimenti loro diventeranno solo brave di fare quella cosa di quella cosa specifica ma va benissimo e ritorniamo a vedere cioè io non nego l'allenamento a blocchi e continuo assolutamente se ho un obiettivo in testa lo faccio magari anche ho tre allenamenti due li faccio a blocchi e uno lo faccio a variabile però questo non perdetelo mai di vista non perdetelo mai di vista lo sto mettendo sulla pietra anche tre fatene tre fatene tre blocchi il quarto lo fate variabile bene io se non abbiamo altre domande chiuderei l'argomento grazie Longa grazie a voi siete stati fantastici perché volevo proprio stimolarvi e ce l'ho fatta meno male va bene dai grazie a voi veramente anzi 90 persone ascoltare adesso alle una direi che è un bel record bene io vi ringrazio non so se il mio pres Fabio Borselli vuole salutare visto l'ultimo intervento e faccio un saluto veloce solo in voce come al solito Andrea assolutamente esauriente grazie a tutti per essere stati qui vi auguro buon appetito e grazie di aver partecipato bene grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti